Sono Stefano e sono libero dal lavoro da circa un anno e ad oggi guadagno circa 3.000 euro al mese. Mi sono liberato dal lavoro in circa sei mesi, ho iniziato a cercare percorsi online sia economici che personali e nessuno di questi mi riusciva a trasmettere quel qualcosa. Poi ho trovato liberi dal lavoro. Era già un mondo diverso, una community diversa, molto positiva. Eppure sono stato molto scettico all'inizio, infatti ho iniziato il mio percorso circa un anno dopo aver conosciuto questo mondo. E oggi me ne pento. Vabbè, comunque. E ho fatto benissimo a buttarmi a quanto pare. Cosa ho trovato in liberi dal lavoro? Ho trovato una community affiatata, quasi una famiglia, e dei coach spettacolari, perché ho iniziato a farmi seguire da coach Fulvio e successivamente sono entrato in Mr. 10K Replay, quindi ho avuto modo di conoscere meglio anche Johnny e Marco, che mi stanno insegnando e regalando tantissimo valore, oltre che a livello economico, anche a livello personale. Quindi direi che la mia vita è cambiata adesso. Ciao a tutti!